buongiorno a tutti da marco bartolomei di ma videopoetry l'innovativo sito web di marco bartolomei videomaker e antonella pederiva new citizen journalist sono qui per questa diretta live per informare tutti coloro che mi seguono coloro che ci seguono che abbiamo in programma una ripresa video al teatro verdi di monte catini terme umberto tozzi e raff in concerto la ripresa video sarà curata dal sottoscritto il commento da antonella pederiva bene questa breve diretta saluto tutti i nostri ascoltatori che ci segue nei consueti video live delle 18 che vanno in onda su la pagina se sul profilo facebook mio di marco bartolomei con stream yard il martedì giovedì e sabato buongiorno a tutti buon proseguimento di giornata ciao 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 ciao